Vittima dell'odio contro un'Italia rappresentata proprio dalla divisa che vestiva. Isola Vicentina non dimentica il carabiniere Attilio Franzan, medaglia d'oro al valore civile. Il 31enne nato a Isola fu orrendamente torturato e trucidato nel marzo del 1944 da un gruppo di partigiani slavi insieme ad altri 11 militari dell'arma in quello che la storia per molti anni taciuta oggi ricorda come l'eccidio di Malga Bala. La cerimonia in ricordo di questa terribile pagina della storia si è svolta la presenza del sindaco Francesco Gonzo al monumento eretto da un cugino di Attilio, Francesco Franzan, presidente della sezione nazionale carabinieri di Isola. Fu proprio lui, incuriosito dalle analogie tra i dati di uno dei 12 militari di Malga Bala e quelli del lontano parente che risultava disperso durante il secondo conflitto mondiale in quelle zone, oggi Slovenia, a riuscire a far luce sull'otroce fine di Attilio e tributare quindi alla sua memoria il doveroso omaggio.